STREGLES IN PASTIOLOGIO! Witness the results of my training. Get ready for the next battle! Tekken 8! New challenger! Raven! NON C'È SPAZIO PER I DILENTANTI! TOTALO! 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 NON C'È SPAZIO PER I DILENTANTI! SHOOT! IT'S NOT A REQUIRE! SHOOT! TOTALO! 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 SHOOT! YOU WON'T SEE THIS COMING! SHOOT! 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 GO TO HELL! Non c'è personale Il mio ninjutsu è sviluppato a un nuovo livello Il mio ninjutsu è sviluppato a un nuovo livello